bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video del lunedì oggi facciamo l'analisi dei mercati delle criptovalute dedicandoci di nuovo a bitcoin ethereum e binance ma ragazzi dobbiamo fare anche questa analisi perché ho modificato una serie di informazioni relative a quella che è l'analisi ciclica che facciamo ogni giorno ho fatto una serie di modifiche al grafico noi andiamo a vedere oggi ho modificato anche i supporti e le resistenze perché volevo anche farvi vedere da un punto di vista di analisi tecnica alcune peculiarità sulle trendline che in questo momento si stanno verificando in quest'analisi andiamo a cercare di capire cosa potrà succedere questa settimana è un aggiornamento relativo a quello che è la situazione dei mercati cripto che vi anticipo vi spoiler non sono assolutamente messi in una zona rosea ragazzi ma lo vedremo anche nei prossimi video perché anche la situazione ciclica di lungo periodo si è modificata dopo il crash dei giorni scorsi andiamo però a cercare di capire dove siamo ora cosa succede ora in questa settimana perché le opportunità di trading non sono mai poche soprattutto in questo mercato anche oggi vediamo un più 8 per cento quindi assolutamente molto rilevante e secondo me ragazzi in questo momento le opportunità di trading continueranno ad aumentare anche per il lato short selling nei prossimi mesi quello che ritengo fondamentale sarà anche un atteggiamento di natura short sui mercati mi avete visto non parlare mai dei mercati delle criptovalute in versione short perché fino alle scorse settimane non c'era questo pericolo da adesso in poi sinceramente ragazzi è possibile anche valutare quest'altra arma quest'altra freccia al nostro arco possiamo riprendere in mano lo short selling come si fa lo short selling se volete queste informazioni ragazzi scrivetemelo nei commenti di questo video se volete approfondire come fare short selling sui mercati delle criptovalute scrivetemelo nei commenti e vi risponderò magari costruendo un video ragazzi come sempre poi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi tutti i nuovi aggiornamenti e lasciatemi un mi piace è sempre un grande piacere vederli sul video passiamo sui grafici eccoci davanti al grafico di bitcoin ragazzi tutto cambiato tutto quello che vediamo è leggermente diverso poi tutto no comunque molto diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere nei grafici l'ultimo di la settimana scorsa quelli che ci accompagnano ormai in maniera abitudinaria per tutta la settimana i livelli che dobbiamo tenere a mente e soprattutto quale sono le intenzioni di bitcoin nei prossimi giorni vediamo un po di fare chiarezza allora ragazzi da un punto di vista ciclico prima e poi da un punto di vista di analisi tecnica la ciclicità ragazzi ci dice e purtroppo resta ormai secondo me una conferma difficilmente questa cosa non sarà così ma adesso vi dico cosa allora resta confermato il ciclo annuale iniziato il 18 di dicembre scorso ciclo annuale ragazzi che è virato in negativo quindi in versione short in trend ribassista nella giornata di marzo 2012 questa è una supposizione ragazzi assolutamente perché potrebbe essere stato un ciclo correttivo però io sono una persona più abituata a ragionare in termini di dati che di speranza ragazzi e i dati in questo momento mi portano a essere legato a questa view per una questione di probabilità ragazzi quindi che l'annuale purtroppo probabilmente relativo a bitcoin sarà ribassista ma relativo a quello di tutte le criptovalute dove è che questa view viene nemmeno ragazzi se è solo se bitcoin riuscirà a salire al di sopra di questo livello ragazzi quindi 10.500 dollari fino a quando bitcoin non supera 10.500 dollari la view dell'annuale ribassista resterà purtroppo valida ok quindi già vi fa capire l'enorme distanza come estremamente complesso per i mercati delle cripto fare questa cosa assolutamente possibile tutto è possibile ragazzi però noi valutiamo per fare trading e investimenti in bitcoin valutiamo ciò che è più probabile ricordatevelo sempre andiamo a capire se l'annuale è iniziato il 18 di dicembre cosa è successo qui a marzo ovviamente una situazione estremamente anomala a marzo sembrerebbe essersi concluso un ciclo leggermente anomalo rispetto ai precedenti quindi un po più corto di 86 giorni che ragazzi io vi ho ancora detto la settimana scorsa c'è tempo fino al 6 di aprile 6 10 massimo di aprile per vedere bitcoin fare ancora questa cosa qui ok così allora se lo fa allora tutto rientra nel in questo ciclo precedente quello che vedete qui ma lo vedremo poi prossimamente insomma se avviene una cosa del genere non guardiamo le eccezioni guardiamo un po più la realtà se invece bitcoin continuerà a mantenersi su questo mini trend rialzista laterale e magari tenta di rompere per esempio la resistenza di 7.000 cosa che dovrebbe fare a momenti se questa view è corretta probabilmente lo vedremo avvicinarsi di nuovo in questa area qui intorno ai 7.000 8.000 dollari dovrebbe esserci poi un altro ciclo sottostante da 75 80 giorni appunto come l'abbiamo visto cioè formato da tre cicli mensili o da due molto grandi ok ragazzi quindi due da 40 è irrilevante questa cosa vedremo poi cosa farà il mercato se questa view che è quella che prendo io a riferimento è vera allora vedremo bitcoin ragazzi atteggiarsi diciamo in maniera un po più forte poi magari andare a fare una close dove intorno a questa giornata cioè intorno più o meno alla metà di aprile per rispettare la ciclicità dal minimo del 12 di marzo se così farà allora avremo la conferma che qui si è chiusa una fase ciclica dov'è il problema ragazzi il problema è che poi la close di quest'altro ciclo che vedete quindi questo che compone questo movimento che andrà guardate guardate un po proprio intorno alla fine di maggio quindi durante l'alving in teoria ragazzi purtroppo questa dovrebbe essere l'atteggiamento di questo mercato in questa fase per avere appunto una struttura ciclica simmetrica come la vediamo in questo momento allora se questa view sarà rispettata ovviamente ragazzi non lo sappiamo però da trader e da investitore nei mercati cripto prendo questa view come la view principale in questo momento da tenere sotto controllo poi magari valuteremo se il mercato cambierà strada questo quando lo faremo nelle prossime settimane ragazzi ogni lunedì facciamo l'aggiornamento per tutta la settimana e quindi andremo a vedere se effettivamente questa view si sta verificando o meno oggi prendiamola un po con le pinze e andremo a vedere in sostanza mercato debole ragazzi purtroppo fino a qui alla fine cioè fino all'anno prossimo in pratica novembre dicembre della fine del 2020 vedremo vedremo un po' se questa cosa sarà vera non mi pronuncio su lunghi periodi perché questa è una fase troppo delicata al momento per fare questo tipo di analisi quindi in questa settimana ragazzi dovremmo avere un bitcoin e un mercato cripto leggermente forte la probabilità dovrebbe essere quella di andare a cercare il test della resistenza a 7000 se riesce a romperla da un buon segnale potrebbe perché no avvicinarsi anche a rientrare in questa fase di oscillazione fra 8000 e 7000 questo è quello che dovrebbe fare da oggi in poi oggi sta già iniziando quindi noi due martedì mercoledì ragazzi poi ci dovrebbe essere questa fase quindi dovremmo andare a vedere se effettivamente chiuderà questo ciclo così o meno quindi la forza dovrebbe avvenire da qui a metà della prossima di questa settimana e quindi questa dovrebbe essere una settimana un po di respiro per i mercati cripto staremo a guardare passiamo su ethereum che vediamo avere la stessa conformazione ciclica di bitcoin ancora una volta ragazzi ancora una volta vedete l'annuale da più o meno 365 giorni iniziato a dicembre anche per quanto riguarda ethereum la regina delle cripto dovrebbe avere questo atteggiamento quindi un ciclo a metà a chiudere il suo semestrale a giugno e poi insomma chiudere il totale insomma sempre alla fine dell'anno quindi dove siamo in questo momento su ethereum ragazzi nello stesso punto di bitcoin cioè siamo alla ripartenza di questa metà insomma dopo i primi tre mesi ragazzi quindi una specie di trimestrale e ancora una volta ethereum dovrebbe andare a fare un atteggiamento di forza già sui 160 dimostrerebbe un po di forza ragazzi vedo un mercato delle altcoin leggermente più indietro addirittura bitcoin ancora più debole rispetto a bitcoin in questa fase comunque questo potrebbe essere l'atteggiamento che dovremmo valutare nel corso delle prossime settimane dei prossimi giorni non mi ripeto ragazzi perché l'analisi ciclica su ethereum è la stessa è la stessa di bitcoin e per quanto riguarda binance è identica ragazzi è lo stesso tipo di discorso vedete qui ancora una volta una partenza dal punto da questo punto insomma che dovrebbe andare a fare due cicli interni da più o meno 40 quindi questo mensile andare a chiuderlo verso la metà fine di aprile e poi si rivedrà ancora una volta ragazzi ripartiamo da bitcoin vediamo una tecnica analisi tecnica cosa ci dice ragazzi e trend ribassista laterale in questo momento vedete di nuovo il death cross ma questo io ve lo avevo anticipato già nei giorni scorsi che avremmo visto la media mobile andare su e giù perché in queste fasi laterali il mercato vede le medie mobili oscillare su e giù quindi non dovete farci caso in questo momento perché il mercato è laterale e nella lateralizzazione le medie mobili non hanno alcun valore di indicazione di trend allora in questo momento quindi ha poco significatività però ragazzi da un punto di vista di trend line che vi avevo anticipato c'è una trend line che va presa in considerazione vedete questa qui ragazzi valutiamo però la fase discendente quindi la trend line discendente che porterebbe alla conclusione che periodo ragazzi vabbè che porterebbe alla conclusione al maggio quindi maggio giugno come terium appunto di questa fase e dove ancora una volta ancora questa trend line ci indicherebbe più o meno vedete purtroppo ragazzi minimi storici degli ultimi anni non mi dilungo invece sull'analisi tecnica di eterium perché ragazzi seguiranno a ruota bitcoin quindi inutile che ci dilunghiamo in ogni caso eterium ha due resistenze importanti 135 160 è un minimo relativo a 80 ragazzi che conoscete benissimo che purtroppo ancora una volta se venisse confermata questa annualità ribassista purtroppo probabilmente andrà a rompere quindi a fare un break binance stesso identico discorso 13 e 30 e 17 le due resistenze principali di binance questa è una bellissima resistenza anche un'aria che potrebbe attirare i prezzi chiusa questa cosa ragazzi giù non c'è niente praticamente ci sono i minimi che abbiamo avuto nelle nelle scorse settimane quindi questo qui di 6 e 50 e poi ci sono altri minimi storici qui sotto ragazzi intorno ai 3 euro poi insomma qui andiamo a poca significatività sinceramente dei prezzi quindi inutile andarlo a valutare perché veramente sono l'inizio della criptovaluta quindi a poca significatività dovremmo vedere quello che farà il mercato in tal caso quindi allora tornando a noi per concludere il video ragazzi ancora una view non positiva per i mercati delle cripto nel medio periodo e nel breve periodo invece potremmo avere un tentativo di ripresa di fiato in bitcoin se rompe i 7.000 dollari potrebbe anche perché non arrivare intorno all'aria 8.000 7500 difficile in questo momento prevederlo perché i mercati sembrano molto 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 deboli vedremo un po quello che farà mai direi mai con i mercati delle cripto non si sa mai ragazzi però la view purtroppo di medio e anche lungo periodo resta estremamente complessa short selling mettetelo nelle vostre armi per questo anno 2020 è fondamentale scrivetelo nei commenti se volete un video dedicato solo a questa cosa qui ok ciao ragazzi ci vediamo nel prossimo video